Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di dieci lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero, quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. L'attività della consulta ha testimonianza di come la partecipazione attiva dei cittadini possa poi influenzare le scelte dell'amministrazione. Non innamoriamoci delle tecnologie, innamoriamoci dei processi conoscitivi. Quindi risulta veramente urgente lavorare nel contesto urbano e ancora di più lavorare sul contesto edificato, quindi sulla riqualificazione.